Benvenuti allo spettacolo di Orange Music Academy. Lettere da Babbo Natale. Il titolo è tratto da un libro di Tolkien che i più grandi conoscono per aver scritto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Dovete sapere infatti che a casa Tolkien il Natale aveva sempre un sapore un po' speciale. Ogni anno Babbo Natale in persona spediva una lettera in cui raccontava ciò che accadeva al Polo Nord. Lo scrittore ha conservato tutte queste lettere e le ha raccolte in un libro. Ecco, questa sera sono arrivate in teatro delle buste spolverate di neve e affrancate con francobolli postali del Polo Nord e dentro le buste ci sono proprio alcune di queste lettere. Quindi mettetevi comodi e aprite bene le orecchie. La magia del Natale comincia! Quando c'è parte lì Termina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti